Uno dei principali talenti dell'alpinismo italiano è Matteo Della Bordella, 31 anni, ingegnere laureato di studi e professione alpinista. Non solo alpinista, ma alpinista dei Ragni di Lecco. Sì, per me è un grandissimo onore far parte dei Ragni di Lecco, io sono entrato nel Gruppo Ragni nel 2006. Quest'anno, proprio quest'anno, il Gruppo Ragni compie 70 anni. E per me, adesso, il fatto di poter portare il Maglione dei Ragni sulle più belle pareti del mondo e continuare una tradizione così gloriosa è qualcosa di fantastico, che se me l'avessero detto quando ho iniziato a scalare non ci avrei mai creduto. Ecco, il Maglione Rosso dei Ragni che porti sia in verticale sulle pareti di roccia che tanto ami, sia anche in spedizioni come quelle della Groenlandia. Ecco, come ti difeneristi tu, alpinista, rocciatore, esploratore? Beh, in una parola sicuramente, prima di tutto, alpinista, perché comunque a me piace scalare le montagne e piace farlo salendo le pareti di roccia. A me attirano queste grandi pareti di roccia un po' in tutto il mondo e se si trovano in luoghi selvaggi, isolati, dove non è mai stato nessuno, ancora meglio. La spedizione in Groenlandia in particolare è qualcosa che ricordo con grande piacere, che mi ha dato grande soddisfazione, perché già arrivare alla parete da scalare è stata una grande avventura. Abbiamo percorso il tragitto in kayak e poi, portandoci dietro tutto il materiale necessario, abbiamo iniziato a scalare questa parete verticale di 900 metri per una via nuova. Nella prossima spedizione saremo tra italiani e due belgi. Sono Nico Favressi e Sean Villanueva, famosissimi scalatori alpinisti a livello mondiale, e hanno questo stile nell'andare in montagna particolarissimo, perché si portano sempre dietro gli strumenti musicali, e in mezzo alla parete, quindi si tira un po' più su l'ukulele, il flauto, si mettono a suonare, compongono delle melodie. Il problema è che io invece non so suonare nulla. Ti canterai? No, sto imparando a suonare lo scacciapensieri. Davvero italiano, ecco. Tutto sarà nella terra di Baffin, quindi territorio polare, artico. Noi vogliamo partire da questo villaggio, arrivare a queste pareti di roccia, pareti alte più di 1000 metri, e quindi aprire delle vie nuove e tornare indietro. Sarà già sicuramente un'avventura in sé, il solo fatto di arrivare alle pareti e tornare a casa, perché sono più di 200 chilometri su terreno sconosciuto, terreno artico con orsi polari. In Ghiorellandia l'avevamo incontrato uno a distanza molto ravvicinata, qua speriamo di no, e portandoci dietro tutto il materiale, quindi già solo prima dell'avventura alpinistica ci sarà una componente esplorativa, se vogliamo. In Ghiorellandia l'avventura